Ci troviamo a confine tra i comuni di Gesualdo, Sturno e Friggento, i comuni più colpiti dalla scossa, dalla lieve scossa di terremoto che si è avvertita questa mattina poco prima delle 8.30, all'epicentro a poche centinaia di metri da qui. Nessun danno ma paura per chi questa mattina ha avvertito il terremoto di magnitudo 3.2 che ha interessato la Valle Ufita. Alle 8.26 infatti la terra ha iniziato a tremare, una scossa di pochissimi secondi ma che è stata avvertita anche nei comuni della Mediavalle del Calore, della Baronia e dell'Arianese. L'epicentro a 17 chilometri di profondità, come riportato dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato individuato tra i comuni di Gesualdo, Friggento e Sturno, a registrare la scossa alla sede romana degli NGV. In tanti sui social hanno commentato l'accaduto, una scossa che tra l'altro arriva a pochi giorni dal 42esimo anniversario del terremoto dell'Ottanta. Tutta la zona è alto rischio sismico, ci ha detto la dottoressa Anna Maria Vicari, direttore della sezione INGV di Grotta Minarda, ma scosse come questa sono all'ordine del giorno su tutto il territorio italiano. Vicari esclude anche una correlazione con lo sciame sismico che sta interessando il centro Italia, in particolare le Marche, ma aggiunge c'è sempre da preoccuparsi, bisogna però mettere in atto tutta una serie di azioni di mitigazione prima che la scossa avvenga, ma attualmente non c'è nessuna situazione critica.